Sulla rotta delle api per ritrovare una terra e un futuro, a Kafr Malek, su una collina di una cirgiordania tormentata, un gruppo di donne palestinesi indossa bianche protezioni per dirigersi verso un uliveto disseminato di alveari, di cui si prendono cura da quattro anni. Nel territorio palestinese, occupato da quasi mezzo secolo da Israele, la raccolta del miele permette un'attività indispensabile per costruire un progetto di vita normale. Siamo sei donne a partecipare a questa iniziativa, spiega Montaha Bairat, responsabile degli alveari di Kafr Malek. Una di noi mantiene una famiglia di sette persone, un'altra di nove, un'altra ancora vive da sola, un'altra ha quattro figli, un'altra ancora otto. Abbiamo tutte situazioni familiari diverse. Ogni anno questo gruppo di donne produce 600 kg di miele per un reddito annuale di 1.400 euro, somma importante se si considera che un palestinese su quattro nei territori è disoccupato, tasso che raggiunge drammaticamente il 40% tra le donne. Per alcune apicoltrici l'attività si è trasformata in una vera passione. Questo lavoro mi appassiona, dichiara una di loro, dopo i miei figli e ciò che amo di più. A casa curo sempre i nostri alveari e mi occupo delle salute, delle nostre api. Il progetto è sostenuto dal Parc, organizzazione che collabora con 103 donne nella striscia di Gaza in Cisgiordania. Qui la maggior parte dei progetti di sostegno è stata lanciata nella zona C, il 60% del territorio sotto controllo militare israeliano dagli accordi di Oslo del 1993. In 23 anni, su molti terreni agricoli sono state organizzate colonie israeliane e la percentuale agricola del Pil palestinese è precipitata del 72%. Lavoriamo essenzialmente su dei terreni agricoli all'interno della zona C, sottolinea Nasei Shaheen, coordinatore del Parc. Uno degli obiettivi principali del progetto è di aiutare la gente a restare sulle proprie terre, in particolare le donne che vivono nelle zone agricole. Oltre al circuito del commercio equo e solidale.